Bentornati e bentrovati con il vostro Dunio94 Siamo di nuovo su Smite che è probabilmente l'ultimo video, penso, non lo so, dell'anno Ah vabbè, ci sarebbe qualcosa sulla bonus patch, tecnicamente Quindi sì, non è il penultimo, il terzo ultimo video, poi ci sono quei due video Allora, stiamo, manca poco più di un mese alla fine, poco meno di un mese Alla fine dei season 10, a 13-15 gennaio Ah no, quindi quarto ultimo, perché tecnicamente c'è stato anche un video riguardante troppo probabilmente Alla fine dei season 10 abbiamo i mondiali 14, al 13 al 15, che vedrò tranquillamente Allora, ovviamente, piccola cosa che faccio ogni anno, dal 24 al 26, probabilmente Non ci saranno probabilmente né video né nient'altro, a meno che non sia una cosa talmente noiosa che mi sta a noia e faccio i video Perché ovviamente è festa, quindi probabilmente il 24 starò in coma di cibo, il 25 starò in coma di cibo, il 26 starò in coma di cibo C'è su quanto si mangia, sono tante ste feste Abbiamo season 10 in arrivo ed è il momento di fare una cosa che adoro, ovvero la lista dei... Io voglio che mettono questo, ovvero la lista dei most wanted di season 10 Sei god, e dico sei perché probabilmente potrebbero anche scegliere di fare No vabbè, d'ora in poi ne facciamo solo 5 per l'anno, o d'ora in poi ne facciamo ancora di meno, eccetera eccetera Quindi sì, i sei god che voglio vedere all'interno di season 10 Una lista che probabilmente è pura opinione, quindi fatemi sapere le vostre opinioni sotto Che voglio questo personaggio, voglio questo personaggio qui e cose così Non era una situazione della FCGC ovviamente, ma... Beh, è sempre stato divertente, anche perché sperando che quest'anno, il prossimo anno, non faranno come hanno fatto quest'anno Ovvero che lanciano il video con 6 god e poi ne fanno solo 5 perché hanno paura di fare qualcosa Perché è quello il motivo ragazzi? Non c'è nessuna strategia politica barra commerciale C'hanno paura di fare un god e c'hanno paura che si beccano la denuncia Cioè questa è la cosa, è la grande, è la più grande paura di un'azienda in ogni cosa del mondo La paura di farse beccano la denuncia di qualche tipo E quindi, allora vi presento i 6 god Che non sono per classe o cosa, semplicemente per... 6, sì Che non sono per classe ma semplicemente per ordine di quello che voglio Allora sappiamo che a inizi di season 10 Guardate li ho contati Ero sbagliato, pensavo avessimo sbagliato In season 10 sappiamo che i primi due god, quello di gennaio e quello di febbraio saranno uno dopo l'altro Cosa che non succedeva da season 6 Con 7 Horus Però se ricordo bene, 7 Horus sono usciti praticamente Contemporaneamente non ricordo season 6 benissimo in effetti Sono passate tante lune Passate tante lune dall'ultima volta che ho giocato Smiley In effetti è vero E spero di riprendere a giocare il season 10 Magari in 23 potrei fare una live prova di Riffsmite Chi lo sa Dunque Allora Siccome ci sta questa cosa dei due god Può significare molte cose Questa cosa dei due god contemporaneamente Tra parentesi, contemporaneamente uno dopo l'altro Può significare Tre ipotesi, tre quattro ipotesi Che sono collegati da Pantheon Quindi sono legati a un mito specifico Che sono semplicemente collegati dalla storia Oppure semplicemente ci hanno voglia di aver fatto questi due god Perché così si lavano dalle palle subito questi due god E così ci hanno più tempo Anche perché sappiamo una cosa molto importante ragazzi Quest'anno del rire di season 10 I god saranno veramente contati col contagoccio Ovvero ci saranno una marea probabilmente di patch dove non ci sta un cazzo Di cosa nuova Nel senso che probabilmente vedremo Invece di come quest'anno che è stata praticamente God Con Battle Pass Fine Fine del Battle Pass Evento Oppure Come si chiama? Non evento Collab Con Battle Pass del Collab Con un evento Poi un altro god Un altro Battle Pass Collab Poi Battle Pass Cioè insomma ci stavano sempre tre quattro Battle Pass di mezzo Alla fine Della fiera probabilmente Ci avremo molti di più Spero in meno collab possibili Perché veramente alcune sono disgustose Alcune sono interessanti Ma veramente no 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 Spererei che La mia speranza è che si rimettano veramente Chiunque stia facendo Stia usando In questa maniera Cioè più che altro che comunque sia Il gruppo si sia E metta veramente Incareggiata del tipo Dobbiamo pensare al gioco Non a Dobbiamo fare skin strane Dobbiamo fare quello Quest'altro Spero veramente che Ci riflettino Almeno Almeno io Questo è quello che sto vedendo Più o meno Quello che ho visto Che ho sentito Per questo Ho lasciato Smite Per questa stagione Più o meno Cioè l'ho lasciato da metà stagione Più o meno Quindi non è che L'abbia lasciato del tutto Dunque Quindi questi due god In qualche maniera Io ho scelto la cosa L'ipotesi di Sono collegati dalla mitologia Io ho scelto due god Della mitologia norrea Due god collegati Uno dall'altro Che sono Uno l'immagine riflessa dell'altro E uno la morte Che è uno che ha portato La morte dell'altro Ovvero Il dio dell'oscurità Hermod E il dio della luce Barra Alba Bolder 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 Vabbè Sì Il cattivo di God of War Il loro mito Si intensifica Tra Il fatto che Hermod è un arciere cieco Quindi starebbe benissimo Come Hunter Che ha lanciato una freccia Che Non mi ricordo se era Contenuto Che era una freccia Di quel tipo di pianta O Che conteneva una parte Di quella pianta Insomma Loki Ci sta sempre Loki Insomma Quando Bolder Quando è nato Bolder C'è stava una profezia Che diceva che Tu aveva crepà E la madre Freya Allora decise Che faceva sì Che tutte le Che ha fatto Che ha fatto Odino E ha detto Guarda Tu vai a tutte le cose Del mondo Esistenti Che si esistono Del mondo E gli fai giurare Che non gli possono fare niente Il fatto è giurare tutto Tranne un cespuglio Che non mi ricordo Se era biancospino O rosmarino Non me ricordo Come cazzo Si chiama quella pianta Lagospino Mi pare L'agrifoglio Non mi ricordo Comunque Loki Che Tra una versione Era Loki Trasformato Un'altra E' semplicemente Loki L'ha scoperto E praticamente Per giocare Per scommessa Ermod Gli ha sfidato Ermod A tirargli una freccia E Loki Gli ha detto Guarda Mira qua Menti Mirava Gli ha ficcato Sta cosa Dentro la freccia L'ha lanciata L'ha colpito E l'ha ucciso Poi c'è stato Tutto il travaso Che Freya Presa Dalla distrutta Distrutta Dal dolore Odin Che va dentro L'Aime A salvarlo Per fai pagare Anche un frazzo graro E Fehrmoth Che è Se non sbaglio Non è che Si uccide E cose così Però sarebbe bello Vedere un arciere cieco Non lo so Magari con un'abilità Ecolocalizzazione E siccome probabilmente Sono un fan Di Fade Granord All'interno di Irez E ormai la teoria E' chiara Questa cosa Probabilmente Ci faranno La versione di Tristam Una specie di Tristam In versione Norena Guarda 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 Quindi questi due God Bardor Mesh Lo vedrei Come guerriero Magari Come Con una Passiva Che gli fa Prendere Meno danni A prescindere Perché E' quello E' invulnerabile Cioè Tecnicamente E' un'invulnerabilità Non un'immortalità Nel senso Se fa male Non sente dolore Cioè E guarisce Però non sente dolore Quindi praticamente Vincibilità Più o meno Una cosa del genere Sì Quindi sarebbe interessante Andiamo avanti E siccome sempre Stiamo parlando Di Fade Granord Perché A sto punto Lo sai cosa Ti tiro anche io Un altro nome Sempre nel mito Babilonese Cioè una figura Che probabilmente Sarà la prossima Che debba uscire E a prescindere Dal fatto che Tecnicamente Nel mito È morto Questo personaggio Ci sono un sacco Di altri personaggi Che tecnicamente Sono morti Nel mito In Smite E ci sono comunque Tra parentesi Medusa Torre E Iriom E a prescindere E a prescindere E a prescindere Questa storia La intendo Dire che letteralmente Si può quasi definire Enchidu Un'arma vivente O delle catene viventi Tecnicamente Il suo compito È stato La sua creazione È stato letteralmente Tenere Gilgamesh Legato Non mi ricordo Se era legato Ai cieli O non farlo andare Verso il cielo Verso i cieli Il regno celeste Per evitare Che ci ammazza tutti Che ammazza tutti Una cosa del genere Non mi ricordo Però Hanno lottato Sono diventati amici Eccetera 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 Quindi sarebbe bello Vedere un altro Essere simile A Gilgamesh È vero Vabbè Infrae Grand Order È quella Specie di pupazzo Femminile Che C'ha la capacità Di creare armi Col portale Dei Bobbilonia Ci sono anche In realtà Un altro paio di giochi Dove c'è questa versione Dove lui crea Letteralmente armi Da se stesso Quindi È un'arma vivente Sarebbe interessante Vedere magari La capacità Di cambiare Aspetto In base Magari non come Bellona Non una cosa come Bellona Mulan Ma qualcosa di Particolare Non lo so Ci dovrei lavorare Su sta cosa Il prossimo personaggio È Mito Arturiano È il momento di Finire la storia Dei cattivi Abbiamo Morgana Abbiamo Merlin Abbiamo Arthur È il momento che ci mettiamo Anche Un altro di Abbiamo Lancelotto Ah giusto C'è anche Lancelot È vero Perché quello è Lancelot Penso sia il momento Di mettere Quello che letteralmente Ha dato il colpo di grazia A Artur Ovvero Mordred Tecnicamente Nel trailer Di Miri Artur Abbiamo visto Che lui L'ha ucciso Mordred E non ha senso Quella cosa Che ho visto Perché tecnicamente Si devono uccidere A vicenda Senza la spada Perché Mordred Lo uccise Re Artur Con la sua spada Clarent Non so se Clarent È canonica Come cosa Io lo prendo Da fake granure Della maggior parte Delle cose E poi Vado ricercando Facendo cross Reference Cose così Mentre Artur Ha ucciso Mordred Sulla collina Di Camelan Con La laccia Arungomiad Che sia Un'altra arma Sagra C'ha poca roba Quell'essere Lei Ha poche armi C'ha lo scudo Che Il Pride Che praticamente È anche La sua nave Non mi ricordo Se lo scudo Diventerà la nave O c'ha anche Lo stesso La nave C'ha lo stesso Nome dello scudo C'ha anche Un cavallo speciale Che si chiamava Non mi ricordo Non mi ricordo Il cane Me lo ricordo Che si chiama Cavlan Cavlan Non mi ricordo Cavlan Una cosa del genere Comunque si Voglio Vorrei vedere Mordred Lo vorrei assassino Provo per farsi Sta cosa Di essere in contrasto Con Artur Che un warrior E magari Con capacità Simili al padre Cioè in realtà Tecnicamente È figlio di Morgana E di Re Artur Figliastro Cioè Figlio illegittimo Di Re Artur In frega una notte È interessante Il fatto che Semplicemente Hanno detto Ok ho preso il DNA Di Re Artur Ho fatto un clone Quindi quella È una cosa divertente Quella è divertente Secondo me Ho pensato Ah ma cazzo Se potrebbe pensare Una cosa del genere Ha fatto con la magia Un clone di Re Artur Che Sarebbe interessante Da vedere Come idea Magari Come ripeto Con l'aspetto Del fatto che Essendo diverso Essendo Una specie Di cosa riflessa Di Re Artur È diventamente diversa Malvagio Più agile Combatte in maniera Sporca Eccetera eccetera E quindi È anche conosciuto Come il Cavaliere Del Treacherous Che vuol dire Il tradimento Della disgrazia Una cosa del genere Non mi ricordo Comunque faceva parte Anche della tavola rotonda Quindi tecnicamente Ci sta Ci potrebbe sta Dopodiché Metterei Signori Un bel personaggio romano È da un Fottio che non c'è Un personaggio romano L'ultimo personaggio romano È stato Discordia Penso Non mi ricordo Penso Discordia o Terra Una delle due Mi pare Discordia O Discordia Perché Terra È venuta molto prima Quindi sì È Discordia È arrivata molto prima Terra Quindi sì È Discordia Dovebbe essere Discordia Quindi stiamo parlando Di un botto di tempo fa In teoria c'era anche Il rumor Che ci trovava a stare Un personaggio maia Il prossimo anno Ma chi lo sa Magari abbiamo fortuna Stavolta E quindi Signore e signori Mi piacerebbe vedere Vesta L'abbiamo presentata In FGC Ovvero Fanmate God Comset Un ragazzo Ha postato Ha presentato Un suo kit Un suo personaggio Fatto bene Che poi abbiamo rivisitato E sinceramente Mi ci sono innamorato Sinceramente Di quel personaggio Come l'abbiamo Sia dal kit base E la rivisitazione Che abbiamo fatto Senza che il ragazzo C'era dal kit base Quindi l'idea Era la sua Infatti Quindi sinceramente Mi piace tantissimo Vedere Chi è Vesta Vesta è la dea romana Del focolare Familiare Quindi anche in parte Padrona delle case Della famiglia E dariva dal nome Delle Vesta Dal nome Alle Vestali Che è questo Che queste Sacerdotesse Che Che controllano Questo grande fuoco Che sta all'interno Del tempio Di Vesta Non mi ricordo Non mi ricordo più i dettagli Perché ho passato Un po' di tempo Comunque siamo Più o meno lì Sarebbe molto interessante Di vedere un altro Romano Finalmente E magari Con qualche capacità Con questa storia Della famiglia Del fuoco Eccetera eccetera Quindi sarebbe Forse se ci chiamano Ci possono Ci possiamo Gli possiamo dare Dai Potete si fa così Una cosa del genere E Dulcis in fundo Un personaggio Che Punto sempre Continua a pushare Sempre Continuerà a pushare Finchè non esce Nutonat Come la vogliamo chiamare Dea Egizia Del cielo Moglio di Gab Forca puttana Mettila Che hai rotto le scatole La stiamo chiedendo Non mi rompere le scatole Con questa storia Falla finita E mettila Punto Mita Insomma Si Dea del cielo La voglio Come personaggio Sarebbe bella Vederla come Hunter O come Marco Gary Così da mettere Gab Insieme Però sinceramente Basta che la metti Perché mai veramente Dai Andiamo Se veramente Sta gente Sta chiedere Se stai veramente Tanto chiedendo Sto usando sta scusa Se è un personaggio Che è più richiesto Allora Dovresti metterlo Perché Nutonat Da quello che Mi ricordo Da quello che ho visto L'ultima volta Sono controllato Nutonat è uno dei personaggi Più richiesti Quindi non mi rompere le scatole E niente Ci vediamo I prossimi video Fatemi sempre la vostra Quali sono i personaggi Che volete vedere in season 10 E ci vedremo Al prossimo Non so se 23 farò questa live Controllate Se ti venite d'occhio La più uni del canale Probabilmente Posterò qualcosa Se la faccio o no E allora Ci vediamo Per ragazzi Vi ricordo In capito Vi ricordo